Succede solo in Italia, solo in Italia, succede solo in Italia, solo in Italia, noi vogliamo specializzarci anche in medicina generale. Siamo venuti l'altra volta chiedendo più bozze, abbiamo avuto notizia di 1.800 bozze che sono un'offesa alla nostra intelligenza e al paese intero. Noi chiediamo civiltà perché questo paese non è un paese civile, non è un paese romile. Ciao a tutti, sono Francesco Duva, Movimento 5 Stelle, avevo presentato un emendamento per voi. La copertura non è piaciuta al governo ed è risulta inammissibile. Ovviamente abbiamo ripiegato come Movimento 5 Stelle sull'emendamento a firma Grimì del Partito Democratico. Voglio direttamente, va oltre le sigle politiche. La salute di tutti non è politica. Qui non si tratta di politica, di partite, di queste lotte, questa è la salute di tutti quanti. Quindi questo emendamento presentato al Partito Democratico e sottoscritto da tutte le forze politiche, io parlo per il Movimento 5 Stelle ma mi risultano anche altre sigle politiche, lo porteremo avanti. Io voglio invitarvi a restare sempre compatti, vedere i camici bianchi che scendono in piazza. Io devo dire che fa un certo effetto, vi fa capire come succede solo in Italia come cantavate voi. Che la classe professionista scendono in piazza in questo modo, così arrabbiati e con così pochi diritti. Accanto a voi medici, vi voglio ricordare che ci sono anche lì i non medici. Siete tutti specializzanti. Io vi voglio invitare a essere sempre compatti, siete compatti e la classe politica non può che ascoltarvi, per forza. Buona continuazione. Grazie mille. 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 Grazie mille.